Raddoppiano i casi di contagio da coronavirus in Toscana, pur sempre rimanendo abbondantemente sotto alla soglia di rischio. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono 35 contro il 18 di ieri. Quattro di questi nuovi casi provengono dalla campagna di test sierologici avviata dalla regione alla fine di aprile. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. Ben superiore il numero dei guariti che crescono dell'1,7% e raggiungono quota 7.240, 5 i decessi, 2 uomini e 3 donne con un'età media di 86,4 anni. La Toscana si conferma al decimo posto in Italia come numerosità di casi con circa 269 positivi per 100.000 abitanti. Si riducono ancora le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti covid che oggi sono complessivamente 204, 6 in meno di ieri, di cui 42 in terapia intensiva. È il punto più basso raggiunto dal 12 marzo. Il tasso grezzo di mortalità in Toscana, ovvero il numero di deceduti sulla popolazione residente, è circa la metà rispetto alla media italiana. 27,1 ogni 100.000 residenti in Toscana contro 53,8 del livello nazionale.